Ho il sospetto che sei qui perché vuoi riuscire a far girare le pale dell'elicottero della polizia che abbiamo costruito la volta scorsa, vero? Ho anche il sospetto che inaugureremo a breve una nuova playlist sui command block e sulla redstone Perché in questo video le useremo entrambe Tu fammi sapere se ti può interessare Nel frattempo iscriviti al canale, clicca sulla campanellina e poi seleziona tutte le notifiche Ora la sigla del canale e poi iniziamo a far muovere le pale del nostro elicottero Ciao sono Marco Vigelini e se questo è il primo video che segui sul mio canale Allora ti invito ad iscriverti cliccando sul pulsante iscriviti Ed attiva tutte le notifiche cliccando anche sulla campanellina In questo modo non perderai i miei prossimi video In questo video ti spiego innanzitutto l'utilizzo di alcuni comandi E come questi vengono applicati all'interno del mondo Minecraft Poché potresti sbagliarti ed in Minecraft non c'è qualcosa che annulli le nostre azioni e ci riporti indietro Il mio consiglio è quello di farti sempre una copia del tuo mondo A me è capitato di sbagliarmi e potrebbe capitare anche a te In questa prima fase ti spiego la logica che viene applicata per simulare il movimento delle pale dell'elicottero Come applicare determinati comandi e soprattutto dove applicarli rispetto alla posizione dei blocchi del tuo mondo Quello che faremo praticamente è simulare l'effetto dei cartoni animati Io ho costruito qua 4 zone di esempio Una verde, una gialla, una rossa e una marrone Che andremo a sovrapporre esattamente dove si trovano le nostre pale dell'elicottero E simulare il movimento delle pale stesse Faremo vedere cioè una prima zona, quella verde, guarda adesso la zona delle pale eoliche Verde Poi metteremo la zona successiva Poi quell'altra e l'ultima zona E questa cosa che io adesso ho fatto a mano La faremo in automatico con una serie di circuiti redstone Ora la prima cosa che vogliamo fare è evitare per noi di cliccare ogni volta questi pulsanti Per far girare le pale del nostro elicottero È meglio creare un automatismo Un qualcosa che ad intermittenza simuli la pressione dei pulsanti Proviamo a costruire questo circuito Ho preso un blocco di terracotta Lo metto a terra A fianco ci metto la torcia di pietra rossa Poi vi faccio vedere un po' il funzionamento della torcia di pietra rossa Come vedi mi attiva la pietra rossa adiacente Questo cosa significa? Che se io posiziono la lampada di pietra rossa questa si accende A questo punto io però questa parte di circuito voglio che rientri proprio sul blocco di terracotta In questo modo metto il ripetitore di pietra rossa Metto a questa velocità E adesso vedete che abbiamo una sorta di impulso costante Che attiva e spenge le nostre lampade di pietra rossa Prendiamo la leva La mettiamo dall'altro lato La attiviamo e abbiamo spento il nostro circuito Che adesso vi vado a spiegare La torcia di pietra rossa praticamente può essere considerata come una batteria sempre accesa E rimane accesa fino a quando non riceve un segnale elettrico Ed in quel caso si spenge In questo caso il circuito che abbiamo costruito lavora esattamente su questa logica La torcia che adesso abbiamo spento Quando è acceso attiva questo circuito Questo entra dentro il blocco di terracotta E ci spenge la pietra rossa La lampada spenta disattiva il tutto E la lampada si riaccende perché è sempre accesa Riaccendendosi, riattiva il segnale Riceve di nuovo un impulso di elettricità E si spenge Spengendosi tutto il circuito si disattiva E la lampada si riaccende E così via Ripetiamolo insieme Attivando questa leva In questo modo A partire da questo punto Qualcuno può ricevere una serie di impulsi Della serie esegui, esegui, esegui Rimuoviamo questi due blocchi E prendiamo dalla chat dei comandi Un blocco particolare In questo caso si chiama command block Do invio Me lo trovo nel mio inventario E vado a posizionarlo esattamente Di fronte alla torcia di pietra rossa In questo modo Poi mi allontano leggermente Mi abbasso E con il tasto destro Ne aggiungo altri tre Uno, due e tre E' molto importante che queste frecce Siano rivolte esattamente in questo modo Cioè questa freccia Deve puntare il blocco successivo Ora questo blocco E' un blocco di tipo impulso Ma dobbiamo andare a cambiare I successivi tre Tasto destro Questo deve diventare un blocco di tipo catena Così come gli altri due Blocco di tipo catena E blocco di tipo catena Così Cosa significa? Che questi blocchi vengono eseguiti in sequenza A partire dal primo Primo, secondo, terzo E quarto blocco eseguito Ecco perché le frecce sono importanti Posizionate in maniera differenti La catena potrebbe non essere eseguita opportunamente Un'altra cosa da fare poi E' Tasto destro E andare a cambiare questa impostazione Condizionale Chiudiamo E guardate l'interfaccia del nostro blocco Com'è cambiata Guarda Dobbiamo fare la stessa cosa su questo Condizione condizionale Stessa cosa Ultimo blocco Guardate la differenza Tasto destro Condizionale E via Questo cosa significa il condizionale? Significa che questo blocco Viene eseguito soltanto Se Quello precedente Ha avuto successo Se quello precedente Non ha avuto successo Questo non viene eseguito Quindi l'esecuzione di questo blocco È condizionale Dipende da quello precedente E così via Questo viene eseguito Allora anche questo viene eseguito Se questo viene eseguito Allora anche questo viene eseguito Perché noi vogliamo che il nostro comando Venga eseguito in sequenza Prima questo Il secondo Il terzo Il quarto Ora Quali comandi andare a seguire? Quello è un altro film Tasto destro Io ho qua un comando clone Con nove numeri Le cose sembrano farsi complicate Ma ti assicuro Che alla fine di questo video Avrai imparato esattamente Cosa significano quei numeri Come utilizzarli Senza sbagliarti Prima del comando clone Infatti io devo spiegarti Che cos'è il comando fill Che io dico che è il figlio Del comando clone Allora Osserva attentamente Queste quattro immagini Queste quattro zone colorate Perché sono quelle che noi andremo a posizionare Esattamente sopra le nostre pale eoliche E guarda come ogni zona È praticamente identificata Da questi due blocchi di calcestruzzo verde Andiamo a vedere però Come si utilizza il comando fill Per riprodurre Per riempire alcune zone Il comando fill in particolare Necessita di sei numeri Il punto di partenza E il punto di destinazione E ogni punto in Minecraft È formato da delle coordinate Che noi dobbiamo attivare Sulla Bedrock Edition In questo modo Oppure con il tasto F3 Se siamo sulla Java Edition In alto a sinistra Abbiamo la coordinata del mio giocatore E abbiamo i primi tre numeri Che sono rispettivamente X, Y e Z Quello in mezzo La Z Ci indica la nostra altezza Come vedi Io sto salendo E il numero cresce Se io sto scendendo Il numero al centro scende Gli altri due numeri invece Si muovono Quando io vado avanti Oppure mi muovo lateralmente Poi capiremo In quali relazioni Aumentano o diminuiscono Allora l'obiettivo adesso È quello di riprodurre Questo rettangolo di terracotta Azzurra In queste zone Allora questo rettangolo Può essere circoscritto Da questa coppia Di punti Minecraft Delle coordinate Chiamiamole Oppure da quest'altra Coppia di punti Mi sposto lateralmente E allora io guardo Questo oggetto E incomincio a scrivere Fill Tabulazione due volte Spazio Tab tab Ancora E questo è l'oggetto Che io sto guardando Mi segno su un pezzo di carta Questi numeri Vado sul blocco avanti Lo guardo nuovamente Inserisco le coordinate precedenti E poi nuovamente Con il tasto di tabulazione Vado a determinare Il punto di arrivo A questo punto determino Il blocco che voglio utilizzare Terracotta azzurra Do invio Ed ecco che il nostro rettangolo È stato riempito Il comando fill Funziona allo stesso modo Se io considero questi blocchi Il primo e il secondo Andiamola a vedere insieme Fill Il comando che sto guardando Sarebbe questo Vado sull'altro Invio Invio Le successive coordinate Del secondo blocco Nuovamente il blocco Di terracotta azzurra Do invio Ed ecco che si è riempito Nuovamente Il nostro rettangolo Andiamola a vedere Anche nelle tre dimensioni Cioè invece di farlo Su questa zona rettangolare Lo andiamo a fare Anche in questa altezza Allora guardo il blocco Fill Il blocco che sto guardando Poi vado nel blocco Che sto guardando Ma di destinazione Cioè questo Il blocco che voglio riempire Do invio Ed ecco che abbiamo costruito Un rettangoloide Compreso il funzionamento Del fill Adesso dobbiamo andare Ad utilizzare La stessa logica Del fill Con un altro comando Che è il clone Il clone Ha questa sintassi Necessita di nove numeri Come avevamo scoperto In precedenza E sono esattamente Le prime tre coordinate Di partenza Le seconde coordinate Dei blocchi da copiare Ed infine le terze coordinate Di dove dobbiamo copiare Il blocco O i blocchi Che vogliamo Il clone in pratica Fa una copia esatta Della nostra zona di interesse L'obiettivo della nostra copia È che vogliamo copiare Questa figura Esattamente sopra Quest'altra figura Con il comando fill Ho imparato sicuramente Che posso individuare Questa figura A partire da questi due spigoli Oppure a partire Da questi altri due spigoli Il problema è che Se io devo utilizzare Il comando clone Che utilizza Un unico punto di destinazione Io non so Quali quattro punti Tra questo Questo Oppure questo Oppure quest'altro punto Io debba utilizzare Per copiare esattamente Questa figura Sopra quest'altra figura A questo punto Mi sono riprodotto Le quattro posizioni possibili E vado a testarle So che avremo dei problemi Pertanto Incominceremo Dall'ultima più a destra E incomincio Con il comando clone Clone A partire dal blocco Che sto guardando Fino a questo punto Utilizzo il tasso di tabulazione Mi copio questi numeri Poi vado a Individuare Dove copiare Quella forma E decido di copiarla A partire da questo punto Riscriviamo le prime due coordinate Poi individuiamo Il punto di destinazione Do invio E guardate cosa succede Ecco fatto C'è stato un problema Proviamo allora Ad utilizzare Quest'altro punto Le stesse coordinate Di partenza E diciamo Di copiare A partire da quest'altro Punto Peggio Allora proviamo Ad utilizzare Quest'altro punto Di destinazione Andiamo con La tabulazione Do invio E ancora Non siamo riusciti A copiare Come vorremmo La nostra struttura Non ci rimane Che quest'ultima Prova Con questo Spigolo in basso Nuovamente Lo guardo Lo individuo Do invio E finalmente Siamo riusciti A copiare Esattamente Questa figura Sopra La stessa figura Avente le stesse Dimensioni La domanda è Come faceva Marco A sapere Che per questo Spigolo Non si sarebbe Sbagliato Scopriamolo Insieme Quindi abbiamo capito Che nel comando Clone Capire dove Posizionare Le terze coordinate È fondamentale Adesso il nostro Obiettivo è copiare Quest'altra figura Rispetto a queste celesti Io non so Dove posizionarlo E voglio scoprirlo Insieme a te Con le coordinate Attivate Io premo il tasto W Osservo se Le X Crescono Io mi muovo avanti E invece Sto vedendo Che le Z Aumentano Torno indietro Vedete Vado avanti 84 85 86 Non mi va bene Non mi va bene Mi giro di lato E vado avanti Nuovamente Meno 42 Meno 43 Meno 44 No sta diminuendo Non mi va bene Devono avanzare Allora io mi giro Dalla parte opposta Premo W Avanzo E vedete che le mie X adesso Stanno aumentando Vedete 7 8 9 10 Ok Perfetto Questa posizione Mi sta bene Perché Le X stanno avanzando Se io vado avanti Se vado a destra Le Z Dovrebbero aumentare E in effetti Vado a destra E le Z Aumentano 102 103 104 105 Perfetto A partire da questa posizione Io adesso so benissimo Che se volessi Copiare quella forma viola Su questi blocchi celesti La terza coordinata Di destinazione Deve essere esattamente questa Cioè quella più in basso E più a sinistra Rispetto alla figura Di destinazione In pratica Io devo Individuare In qualcosa Che adesso Cerco di riprodurre Una sorta di Di freccia Così Queste sono le mie X Queste sono le mie Z Quando queste aumentano In questa posizione Aspettate Fatemi finire Ok Quando io vado avanti E le X aumentano Vado a destra E le Z aumentano Allora Il punto più in basso Questo per esempio È il punto di destinazione Del comando clone Proviamo a farlo insieme Allora Io clono A partire da questo punto Coordinata di partenza Mi sposto Ed individuo La coordinata Di destinazione Della nostra forma Che è questa Copio le coordinate Adesso Decido dove Posizionare Quella stessa figura Quindi La terza Coordinata Di destinazione Per me È quella Più in basso A sinistra Rispetto a dove Vogliamo copiarlo Invio Non mi sono sbagliato Se volessi copiare La stessa figura In queste posizioni Ovviamente Devo fare riferimento A quel blocco A quello spigolo Cambiamo Il punto di destinazione È quello che sto guardando Invio Nuovamente Non mi sono sbagliato Terza figura Invio Quarta figura Invio Ecco fatto Il comando Il comando clone Però Non ha Una rotazione Per cui Se io volessi copiare Questa forma Che ha la stessa Diciamo Dimensione di questo Però in una rotazione Differente Io non riesco A copiare Quella forma Ruotandola E posizionandola Esattamente Sopra questa Cioè Verrebbe una cosa Del genere Do invio Ok Perché non riesco A ruotare Con il comando clone Torniamo allora Ai nostri Quattro Command Block Iniziali Che avevano All'interno Questa serie Di quattro comandi Di tipo clone Con questi Nove numeri Che abbiamo scoperto Essere Una terna Di coordinate Prime coordinate Seconde coordinate E terze coordinate Le terze coordinate Sono quelle Di destinazione Andiamo in volo E praticamente Noi abbiamo detto In quei quattro comandi Di copiare A partire da questo punto Questo inquadrato Rispetto a questo Tutta questa zona La copiamo Esattamente In quel punto Stessa cosa Per la zona gialla A partire Da questa Coordinata Arrivando a questa La copiamo Esattamente In questo punto Perché questo punto Perché in questo mondo Se io vado avanti Le x aumentano Se io vado A destra Le z aumentano In questo punto Quindi il punto Più basso Delle nostre Pale eoliche Più in basso E a sinistra È esattamente Questo Ora è ovvio Che noi Non metteremo Sopra il nostro Elicottero Queste Quattro strutture Ma mi servivano Per raccontarvi Che noi metteremo Queste Quattro strutture Il funzionamento Sarà esattamente Lo stesso Questa è La figura Di partenza Con cui abbiamo Lasciato la costruzione Del nostro elicottero Ma prima di creare Il nostro primo Comando di tipo colone Con le pale Corrette Del nostro elicottero Andiamo a fare Un ultimo fill Che cosa? Dobbiamo rimuovere Questa zona Non ci piace più Allora A partire dal blocco Che sto guardando Esattamente questo Fino a questo punto Io voglio Riempire Tutta questa zona Con Che cosa? Con Dell'aria Via Magicamente Ho pulito La struttura Che non era Più di mio interesse Ora Torno Di nuovo Nella zona Delle vere Pale Dell'elicottero E vado a creare Il primo Comando Tipo clone Clone A partire dal blocco Che sto guardando Questo Copio le coordinate Vado Al punto Di destinazione Trascrivo le coordinate Le copio Nuovamente Questa struttura Qui Deve essere Copiata Esattamente Vi faccio vedere Dove è il punto Di partenza Esattamente In questo punto Quindi Vado a creare Il tutto Proprio Sull'elicottero Dove vogliamo Noi Allora Qua mi appoggio Faccio Così Ok E il punto Dove dobbiamo Effettuare Il nostro clone È esattamente Questo A questo punto Completo Il comando Di tipo clone Lo eseguo E non è successo Forse niente Però in effetti Come vedi Si è portato dietro Questo blocco Che sta nella parte Posteriore Allora Questo primo Comando Noi lo mettiamo Esattamente qui Tasto destro E trascrivo Il comando All'interno del blocco Di comando Chiudo E vado a creare Il successivo Comando di clone Voglio copiarmi Esattamente Questa struttura Rimango un attimo In sospensione Così Se hai bisogno Di costruirla Metti in pausa Il video Fondamentalmente A partire da questa posizione Ho creato due botole di ferro Che scorrono In questa posizione Poi se guardo Di nuovo Il muro di ciotoli In questa posizione E così via Per le altre Quattro pale Mi rimetto in alto Ti faccio vedere Allora com'è Così Metti in pausa Il video Nel caso ti servisse Poi vado a creare Il secondo comando Di tipo clone Che è questo Clone A partire dalle coordinate Che sto scrivendo Me le appunto Queste sono le coordinate Che contengono esattamente Le mie seconde Paleoliche Che si sono un po' mosse Il punto di destinazione Ovviamente Deve essere lo stesso Che è questo Scritto le coordinate Do invio Ed ecco che la nostra Pala eolica Incomincia a ruotare Andiamo a trascrivere Anche questo comando Nella seconda parte Della nostra catena Di comandi Inseriamo il secondo Comando di clone E andiamo a creare Il terzo comando La terza posizione Delle nostre Pale eoliche È esattamente questa Fai attenzione Che per questa Pala eolica E quest'altra Dalla parte opposta Ho dovuto creare Le botole di ferro Leggermente più in alto Perché sono occupate Da questa lastra di quarzo A questo punto Cosa significa Che io devo copiare A partire da questo blocco Segniamo le solide coordinate E poi Quando andiamo Da quest'altra parte Ricordiamoci Di salire Di un blocco Perché queste Botole di ferro Ovviamente Stanno un po' più in alto Vi torna Quindi le distruggo Ricordiamoci di Puntare a questo blocco Tabulazioni Individuiamo le altre coordinate Segniamocele Andiamo in posizione Dal nostro elicottero Così Questo è il solito Nostro blocco Tabulazione Coordinate Invio La nostra pala Nuovamente rotato Andiamo a completare Il terzo Command Block Questo Inseriamo Il nostro comando Chiudiamo E andiamo a completare La quarta parte Quarta ed ultima forma Delle nostre Pale dell'elicottero Ve le faccio vedere dall'alto Metti in pausa il video Così riesce a copiarle Perfettamente Scendo in basso Praticamente sono Due a destra Che scendono in questo modo Vado dall'altro lato Ed è la stessa cosa Rispetto al muro di ciotoli Vedete Due a destra Sempre vicine Stessa cosa Da quest'altro lato Eccetera Eccetera Allora Allora Poi Siccome qui Nella zona precedente Avevamo messo Più in alto Questi qui E dobbiamo adesso Rimuoverli Anche questa parte Ci tocca Clonare A partire da questo blocco Segniamo le coordinate Ma anche Ad arrivare A quest'altro blocco Non a questo Quindi puntiamo Questo blocco Individuiamone Le coordinate Copiamocle Andiamo Sempre Vicino Al nostro Elicottero Esattamente In questo punto Punto di destinazione Sempre lo stesso Con la tabulazione Individuiamo Queste coordinate Ce le segniamo Invio Ultima Rotazione Andiamo A inserire Anche quest'ultimo Quarto comando Di clone Nella nostra catena Inserito Chiudiamo E adesso Siamo pronti Far girare le pale Del nostro Elicottero Ultimi ritocchi Per la nostra Catena di montaggio Chiamiamola così Allora Questo è il nostro Primo comando Di tipo clone Impulso Incondizionale Pietra rossa Perfetto Poi Successivo Comando clone Catena Condizionale Questo deve diventare Sempre attivo E questo Lo cambiamo Al numero 5 Stessa cosa Per questi Allora Catena Condizionale Sempre attiva Ritardo di tick 5 Ultima Modifica Sempre attivo Ritardo in tick 5 In minecraft Ogni 20 tick Equivalgono ad un secondo In pratica Noi gli stiamo dicendo Di attendere un pochetto L'esecuzione Rispetto al comando Precedente In modo tale Da poter Simulare meglio L'effetto della rotazione Delle nostre pale Attiviamo la leva Ed ecco che Il nostro Meccanismo di rotazione È completamente In funzione Se non dovesse Partire il tutto Provate anche a Mettere come Incondizionale Questo blocco Ed i successivi Poi ricordiamoci Di andare a togliere Questi Blocchi verdi Uno E vedete che adesso L'aggiuto non lo copia più Guardate come lampeggia Uno Poi Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E poi Nove Dieci E quindi La rotazione Del nostro Elicottro Adesso è Perfettamente Funzionante Ok Ultimissima cosa Vi ricordate che qua sotto Avevamo lasciato Un blocco Di calcestruzzo Verde Allora Distruggilo Mettici un Command block Al suo posto E quale comando Dobbiamo andare ad inserire Praticamente noi Quando Azioniamo questa leva Si aziona il meccanismo A questo punto Così è spenta Così è accesa E noi dobbiamo sostituire Al posto di questa leva La leva che si trova In questa posizione Utilizziamo questo comando Set block Esattamente la leva Che stiamo guardando La posizione In alto Per me Era numero uno Ok Vado a scrivere Lo stesso comando Intanto spengo questo Vado a scrivere Lo stesso comando Su questo blocco Così Tasto destro Lascio impulso Incondizionale E pietra rossa Qui Rimetto la lastra Di quarzo E quando io Aziono Questa leva All'interno Del nostro Elicottero Vedete Che tutto Incomincia a funzionare Ovviamente La posizione Della vostra leva Rispetto al vostro mondo Fate un paio di prove Potrebbe essere O uno Due O tre Eccetera Eccetera Detto questo Credo che abbiamo Completamente finito Il nostro tutorial Spero tanto che tu Abbias imparato qualcosa Di nuovo Guardando questo tutorial Per chi sta utilizzando Minecraft Education Edition Il comando di individuazione Delle coordinate Guardando il blocco Ancora non è stato introdotto Perché stiamo lì Una versione indietro Rispetto alla Bedrock Tutti gli altri comandi Però funzionano Esattamente per la Bedrock E per la Java Edition Ti invito allora Ad iscriverti Al mio canale Clicca anche sulla campanellina Ed attiva tutte le notifiche In questo modo Non perderai I miei prossimi video Ciao E ci vediamo Al prossimo video